Ma voi, vi ricordate di questa? Eh sì ragazzi, e non ve lo dico perché voglio risvegliare in voi un senso di nostalgia, ma perché nel prossimo futuro, nel recente futuro, la R4 potrebbe ritornare sotto un nuovo nome e più potente di prima. Il prodotto in questione prenderebbe il nome di Migswitch e sarebbe stato ideato da un gruppo di sviluppatori russi, i quali avrebbero ideato un modo del tutto nuovo per modificare la Nintendo Switch. La modifica della Nintendo Switch non è però una novità, infatti negli scorsi anni e negli scorsi mesi ne sono state create di parecchie, di qualsiasi e di jailbreak, che però con aggiornamenti diretti dalla casa madre hanno debellato questa problematica. In questo caso parliamo di un prodotto plug and play, una vera e propria cartuccia nella quale verrà inserita una microSD con i dati dei videogiochi a cui vorremmo giocare che a sua volta andrà all'interno della nostra Nintendo Switch. Questo ci consentirebbe di giocare a tutti i videogiochi che noi vogliamo senza smorzare un euro, senza installare dei programmi e senza utilizzare né PC né smartphone. Ciò nonostante per ora non sia ancora un prezzo ufficiale o una data di uscita del prodotto, però io lascio la parola a voi. Ditemi ragazzi se acquistereste mai un prodotto del genere e se secondo voi è eticamente e moralmente giusto.